Entra in area di rigore, ne salta uno, poi un altro... Dai, dai, scommetto che segna! Rigore! Incredibile! Scommetto che lo sbaglia. Scommetto che segnano proprio adesso! Scommetto che anche quest'anno non ne azzeco uno. Però vinco la flop cup di Unibet. Gioca la fase girone, sbaglia le tutte e vinci le Maldive e 10 Samsung S9. Gioca con la testa. Vamos! Unibet, da giocatori per giocatori. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Grazie!